Vi diamo i nostri consigli per fare le vacanze con il cane senza che si trasformino in un incubo per tutti. Assicuratevi che il luogo in cui lo portate abbia una spiaggia attrezzata per loro e che sia pet-friendly. Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo, perché non sono molte le strutture di questo tipo. In montagna o in campagna meglio evitare escursioni e trekking troppo lunghi, se non è abituato. Fate anche una scelta in base alla difficoltà, che deve essere progressiva. Così non si stancherà troppo. Portate poi sempre dell'acqua nello zaino da dedicare a lui, e una ciotola per farlo bere. Prima di affrontare un lungo viaggio in auto, assicuratevi che il cane sia abituato. Meglio spezzettare il percorso in varie tappe. Più il cane si dimostra nervoso e ansioso più le pause dovranno essere frequenti. Consentitegli spesso di scendere, anche per pochi istanti. Molti animali, infatti, sviluppano una sindrome da mal d'auto. La situazione torna alla normalità entro la prima ora di viaggio, ma bisogna essere pazienti e concedere al cane il tempo per adattarsi. Nei casi più difficili, il veterinario vi darà integratori da somministrare prima del viaggio. Insomma, tutto sta nel conoscere il proprio amico peloso. In aereo il nostro amico può viaggiare. In cabina con voi nel suo trasportino si pesa fino a 10 kg. Nella stiva si pesa meno di 75 kg nelle gabbie ufficiali. In cargo si pesa oltre 75 kg. In nave, invece, può viaggiare in apposite cabine che ospitano i padroni e i loro animali, o in gabbie. Fategli fare dei giretti per sgranchire le gambe, fatelo mangiare solo crocchette e alimenti secchi per non fargli soffrire mal di mare. È importante che i siti che danno idee per vacanze con cani e altri animali diano indicazioni utili, come strutture dove soggiornare, spiagge che accettano cani, musei, parchi e luoghi da visitare adatti, itinerari per fare passeggiate e gite. Alcune app specifiche indicano case vacanze e alberghi, mezzi di trasporto e parchi che accettano cani e gatti. In montagna, evitate escursioni troppo lunghe e difficili, se non è abituato. Portate dell'acqua per lui, e una ciotola per farlo bere. Fate attenzione agli altri animali, soprattutto a quelli selvatici o pericolosi. Potrebbe incontrare vipere, ma anche cani da pastore, mucche, capre e altri animali al pascolo. Meglio tenerlo al guinzaglio per evitare che metta il muso in un forasacco o una spiga. E controllargli il pelo per le punture di zecche. Dove andare in vacanza al mare con il cane? In Italia, non ci sono tante spiagge attrezzate o libere che sono dog-friendly. Meglio prima fare un check direttamente con lo stabilimento balneare, e prenotare anche con largo anticipo. Le spiagge pet-friendly mettono a disposizione acqua, cibo, ombra, e una doccia dedicata, per alleviargli la sete, le scottature e altri problemi. Nel caso scegliate la spiaggia libera, dovrete occuparvene voi direttamente.